Sorpreso con 13 dosi di eroina in bocca, per un 31enne nigeriano sono così scattate le manette. Il pusher è stato infatti bloccato dai carabinieri del nucleo investigativo in piano centro a Retino. Le indagini erano partite a seguito delle segnalazioni di alcuni residenti che avevano notato un insolito via vai di studenti e delle frequenti cessioni di droga in centro tra Piazza Guido Monaco, Via Petrarca, Via San Lorentino e Via Garibaldi. Ieri mattina, a seguito di una serie di controlli in borghese, è così scattato l'arresto. Il 31enne senza fissa dimora stava uscendo da uno stabile di Piazza Guido Monaco, è stato seguito a piedi e poi bloccato dai militari in Via Petrarca. Il pusher, alla vista delle forze dell'ordine, ha tentato anche di disfarsi delle dosi che teneva nascoste in bocca. È stato poi perquisito con un cane antidroga del nucleo carabinieri di Firenze e anche l'appartamento dove il 31enne abitava assieme ad un connazionale. Lì i militari hanno trovato altra droga, marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi. Per l'uomo sono scattate le manette per retenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli è stata contestata anche l'irregolare presenza sul territorio nazionale. Lo scorso 27 marzo aveva infatti ricevuto dal questore di Arezzo l'obbligo di allontanamento dal territorio nazionale. Le indagini adesso proseguono per cercare di capire se quell'appartamento fosse utilizzato come una sorta di base logistica anche da altri pusher.